a vostra presenza sono molto felice di essere con voi di parlare un po di prospettiva verso il futuro anche se magari il titolo è generale cercherò fino verso la fine di concentrarmi piuttosto sullo stato di benessere la salute lo stato spirituale che questo alla fine dove vorremmo arrivare quindi stiamo parlando di di guardare qual è il futuro della umanità e questo è un argomento veramente che comprende una vasta gamma di possibilità e di sfide non è qualcosa di specifico ognuno degli aspetti che prendiamo in considerazione avrà delle implicazioni per nostro benessere collettivo quindi stiamo parlando di futuro della umanità nell'ambito di come si vedrà l'umanità nel futuro sarà meglio sarà peggio sarà poco umana sarà molto spirituale poca spirituale quindi tutte queste cose chiaramente possiamo prendere in considerazione però prima di andare al futuro dobbiamo sapere un po del nostro passato e io prendo qui in considerazione l'aspetto piuttosto scientifico e per dire come abbiamo visto fino adesso la nostra realtà e chiaramente ci sono delle leggi della fisica che ci sono diversi modelli nella scienza che descrivono nostra realtà e cominciamo con la legge di newton quella della gravitazione universale poi arriva la meccanica quantistica che descrive il comportamento delle particelle a livello micro nano interazione delle particelle e da dire che in questo campo anche le cose sono diventate piuttosto più scure che chiare ma ci ha dato una prospettiva di avvicinanza verso il mondo spirituale quindi ci sono tanti concetti nella fisica quantistica che sono molto vicino alla spiritualità solo per darvi l'esempio se parliamo del potenziale quantico universale il potenziale quantico è l'informazione che c'è dietro tutto e l'informazione precisa l'intelligenza divina questo si chiama potenziale quantico mentre lo stato quantico non è altro che lo spirito che differenza fra spirito e stato quantico nessuna perché tutti e due sono stati di informazioni quindi lo spirito è uno stato di informazioni lo stato quantico è uno stato di informazione risulta che la fisica quantistica ci parla della dimensione spirituale però non lo considera così infatti nella fisica quantistica tante cose sono scuri sono non compresi e il principio della indeterminazione di heisenberg ti dice che non puoi dire con precisione sia la velocità della particella sia la sua posizione nello spazio questo è vero ma non significa che questo c'è un momento che probabilistico c'è una un binario ben preciso sul quale elettroni o la particella va sopra quindi il fatto che noi ignoriamo questo binario questo tragitto non significa che tutto probabile quando andiamo a scoprire questo è il tragitto e la legge che dirige il tragitto della particella non c'è più probabilistico quindi nei miei occhi non esiste né indeterminazione né probabilità esiste una precisione esiste una matematica precisa e come ha detto Einstein dio non gioca i dadi non è che dice vediamo adesso dio ha buttato i dadi se vediamo come esce fuori questa volta questo universo ma c'è una legge è ben precisa e poi abbiamo la teoria generale e speciali della relatività di Einstein chiaramente anche lì la teoria della relatività generale generale della relatività e considera le forze a macro dimensioni le forze fra le galassie le forze fra i pianeti il problema fra fisica quantistica e la relatività generale che tutti e due sono giusti tutti e due sono corretti ma non sono compatibili non puoi prendere la fisica quantistica e applicarla sulla gravità non puoi prendere leggi della gravità della relatività generale e applicarla sulla sulla fisica quantistica per questo i fisici stanno cercando una teoria che unisce le tre forze della fisica la forza elettromagnetica la forza della gravità la forza elettromagnetica la forza forte la forza debole queste tre con la gravità la quarta per poter trovare una teoria che Einstein ha chiamato questa teoria la teoria la gran teoria unificante e poi abbiamo la teoria dell'evoluzione biologica e questo effettivamente ci indica che dovrebbe essere qualche modello specifico che spiega come mai siamo arrivati a questo punto di evoluzione cosa c'è dietro questa evoluzione siamo evoluti così in maniera casuale se fosse vero o fosse vera la teoria di Darwin che è tutto è avvenuto l'evoluzione per questione di mutazioni e mutazioni avvengono per sbagli e quello che riesce a resistere nell'ambiente dove avvenuta la mutazione rimane e quello che non riesce scompare e così avviene l'evolazione in maniera randomale allora non rende la precisione che c'è nel nostro organismo pensate hanno fatto un calcolo quanto ci vuole per sviluppare solo un occhio umano per caso cioè supponiamo che tutta mutazione mutazione per caso è uscito occhio così hanno fatto calcolo esce fuori che per solo un occhio non tutto l'organismo per avere questa forma dieci alla potenza di 40 anni e pensate che il nostro universo appena dieci alla potenza di 9 quindi non può essere niente di casuale ci sono delle leggi ben precisi e nel sapere queste leggi possiamo prevedere anche il futuro perché se io ho dei calcoli precisi dove dovrebbe essere la luna ad ogni momento dato è quello che fanno gli astrologi se tu vai e dici fra mille anni dammi per favore in quel giorno in quell'ora dove sarà la luna attorno alla terra e ti dici perché ti dici perché ci sono dei tragitti ben precisi della luna attorno alla terra ok se noi abbiamo delle leggi che sono applicabili su tutti i livelli dal macro al micro e sappiamo anche come sarà il futuro quindi il futuro non sarà difficile a saperlo se abbiamo saputo quali sono le leggi e le regole che lo dirigono e lo guidano quindi chiaramente queste leggi porta alla fine alla ricerca di una teoria unificante e poi c'è la teoria del big bang che ci spiega come è stato creato l'universo il nostro universo e nonostante il fatto che ci sono tante cose ancora mancanti in questa teoria come per esempio cosa cosa è stato prima del big bang e se è vero quello che dicono scienziati astrofisici che non c'era niente come puoi creare qualcosa da niente e se è vero non c'era niente come mai è avvenuto questa scintilla del big bang iniziale se non c'era niente quindi le cose di base ancora non hanno delle risposte e finché non abbiamo un modello che ci dirigi e un modello che si spiega queste cose certamente noi siamo ancora in mancanza allora da questo punto abbiamo bisogno di una teoria del tutto e questa non è una cosa nuova perché anche scienziati cercano una teoria del tutto e questa teoria del tutto cosa dice deve essere in grado di descrivere un gran numero di fenomeni per mezzo di pochi parametri arbitrari quindi cosa sono questi parametri arbitrari sono delle cose che non sono spiegabili che non puoi portare una teoria del tutto che contiene cose non spiegabili per esempio quando dice la costante g della gravità o costante della velocità della luce o costante di Planck tutte costanti in fisica non hanno spiegazioni e sono dentro le equazioni della fisica allora Karl Popper un gran filosofo della scienza moderna ti dice una teoria del tutto deve essere in grado di descrivere un gran numero di fenomeni per mezzo di pochi parametri arbitrari io dico per nessun parametro arbitrario se è veramente teoria del tutto non deve avere nessun dato non spiegabile e se c'è qualche dato non spiegabile questa teoria non è completa non può essere teoria del tutto il secondo punto che questa teoria deve essere capace di prevedere correttamente eventi futuri chiaramente questa teoria del tutto deve sapere anche dire come sarà domani come sarà fra mille anni e quanti anni ci vuole finché il nostro universo muore perché noi sappiamo che ogni cosa che nasce muore quindi attraverso questa teoria del tutto saremo capaci di spiegare il mondo della fisica la vita, la biologia comprenda anche l'aspetto spirituale non puoi dare una teoria del tutto lasciando il mondo spirituale fuori dicendo ah questo non è scientifico eh no scusa miliardi di persone nel mondo che credono nello spirito e li escludi così facilmente una teoria del tutto deve comprendere i tuoi pensieri i tuoi sogni deve comprendere gli angeli i demoni il mondo dei geni deve comprendere anche Dio non puoi portare una teoria del tutto senza comprendere il Dio quindi per far poter fare questo abbiamo bisogno di un modello olistico che è un modello sistemico che considera fattori biologici mentale, spirituale, ambientale, sociale tutti sono interconnessi e si influenzano a vicenda quindi il modello olistico prende in considerazione qualsiasi cosa che esiste nella tua realtà e la tua realtà non è solo quella fisica ma le tue emozioni i tuoi sentimenti le tue sensazioni le tue fantasie le tue idee tutto deve essere compreso in questo modello olistico e per poter fare questo io vi presento sette leggi universali che sono applicabili dal micro al macro qualsiasi domanda deve essere risposta deve avere una risposta con queste sette leggi universali e chiaramente per dare una risposta definitiva allora mi sono trovato a descrivere teorie nuove di fisica e pubblicare articoli nella fisica nonostante il fatto che io non ho studiato fisica non mi piaceva fisica per quello sono andato a studiare biologia né matematica né fisica però vi rivelo un segreto ma non dirlo a nessuno rimane fra di noi io da più di vent'anni faccio delle cerimonie sciamaniche vado in Peru in Brasile viviamo l'ayahuasca facciamo corse con l'ayahuasca e durante questi viaggi interni spirituali sono arrivato ad avere un movimento libero nella dimensione spirituale come come nell'internet tu navighi nell'internet ho imparato come navigare nel mondo spirituale liberamente e sono andato alla libreria cosmica quella che viene chiamata Akashica ho detto se questo è veramente vero allora vado a chiedere domande che non hanno risposte in fisica cioè sono andato nella parte più difficile possibile ho detto voglio prendere problemi nella fisica moderna che non hanno risposte e portare risposte a queste domande però le risposte devono essere con il stesso linguaggio dei fisici non è che dico ho trovato una soluzione della gravità e lo dico così come filosofia però dovrei avere delle equazioni matematiche che appoggiano quello che dico e così ho cominciato a fare e vi descrivo come è stato fatto questo perché secondo me ha delle implicazioni molto importanti nel futuro nostro come imparare come studiare come crescere come insegnare i nostri figli allora vado e vedo davanti a me tutto nell'immaginazione pensate che normalmente noi quando diciamo immaginazione come dire non c'è se vuoi dire a qualcuno che non ha ragione diciamo ma stai immaginando come dire questo non è vero stai immaginando cosa vi dico io vi dico che l'immaginazione è la realtà dell'anima ho capito questo che la mia immaginazione è una realtà dell'anima allora immaginavo e vedevo certamente perché con l'ayahuasca la visione interna si apre quello che gli altri chiamano allucinazione senza capire cosa sono questa allucinazione cosa vuol dire allucinazione vedere qualcosa che non c'è vero ma allucinazione non è altro che la visione nell'ambito del mondo spirituale questo si chiama allucinazione allora vedo questa libreria che arriva all'infinito nel cielo guardo così dico ma e dove trovo Costante G per capire cos'è solo ho pensato così ho visto un libro scritto G sul margine del libro lo prendo lo apro e non vedo niente è grigio però ho sentito qualcosa che ha fatto l'entrata dentro di me il giorno dopo al mattino corro al computer per scrivere era talmente chiaro talmente semplice comincio ad applicare i principi dell'idrodinamica sul vuoto sapendo la densità del vuoto ho fatto calcoli e c'è fuori il numero preciso del costante G che fino adesso nessuno sa da dove viene ho preso la costante della permeabilità magnetica quello che si chiama Mu e poi ho preso la costante della permittività elettrica epsilon ho preso il costante del fine structure quello alfa quello che ha fatto impazzire tutti i fisici senza dare che ha un valore 1 su 137 questo costante 1 su 137 e si trova nell'equazione della fisica se cambia il 4% del suo valore tutto l'universo non sarebbe stato creato 4% solo del suo valore chiaramente comincio a portare informazioni di là e ho capito anche che una volta che ho aperto questo canale ho capito come mantenermi in contatto con questo canale in maniera che oggi qualsiasi concetto di fisica io dico fisica chimica tutte le cose che sono difficili da spiegare le spiego in maniera diversa il futuro della fisica non sarà come quella fisica che noi studiamo oggi sarà una fisica che vedi le cose vuoi vedere la dinamica invece di guardare equazioni matematiche dici ma cos'è l'elettrone ah l'elettrone non ha forma ha una forma ben precisa la forma dell'elettrone è un vortice è un vortice di energia con un diametro con una velocità di rotazione con una massa con un spin tutto c'è prendo il vortice comincio a scrivere questo è il vortice del vuoto che lo descrivo ti esce fuori tutte le caratteristiche dell'elettrone e così in realtà ho capito che se poteva imparare qualsiasi cosa che vuoi vuoi imparare una nuova lingua bene prepara il tuo terreno per la nuova lingua quindi non è che vai lì e fai download e già sa tutto deve sapere coscientemente come interpretare le informazioni quindi richiede una minima preparazione come dire ho preparato il terreno per ricevere informazione e so cosa fare con questa informazione dopo se non hai preparato il terreno anche se vai hai fatto download di una lingua straniera come la tedesca per esempio e vuoi parlare e non parli non sai parlare perché perché non hai non sai l'alfabeto del tedesco deve prepararlo il minimo e poi tutto il resto comincia a fluire e così anche giusto per tutto il resto delle cose che noi vogliamo sapere quindi nel futuro invece di insegnare ai nostri figli di ripetere le cose per ricordarle cosa insegnarli? come fare download delle informazioni perché alla fine quando ripeto cosa creo? creo una nubola magnetica attorno la zona attivata nel cervello e questa nubola è caratteristica di questa informazione quindi l'informazione la memoria non si trova nel cervello e questa è la buona notizia il nostro cervello è vuoto non c'è niente sono dei circuiti neuronali che sanno elaborare esattamente come questo cellulare l'informazione non è che dice vedo YouTube cosa faccio? abro il canale YouTube e comincio a scaricare le informazioni nel YouTube quindi questo cellulare sa come elaborare le informazioni il nostro cervello sa come elaborare le informazioni quindi potete pensare la potenzialità infinita del cervello nostro se sappiamo come canalizzare le informazioni come per esempio abbiamo la televisione questa televisione dice quanti canali può vedere infiniti canali rispetto dipende dall'antenna mette un'antenna che riceve 300 canali vedrai 300 canali mette l'antenna che vede due canali vede solo due canali non dipende dall'apparato televisivo ok quindi il nostro modo di vedere le cose per imparare per insegnare i nostri figli sarà completamente diverso quindi per poter fare questo chiaramente dobbiamo trovare un modello di base che spiega questo e il modello di base dice la nostra realtà è fatta da tre aspetti è fatta da informazioni da energia e da materia la materia è solamente 4% del nostro universo 22 23% dell'universo fatto da materia scura 23% del nostro universo 24% fatto da energia scura cosa sono queste energie e materia scura sono delle cose che la scienza non sa niente pensate che la nostra scienza sa e studia il 4% solo della nostra realtà cosa noi sappiamo in medicina il 4% della nostra realtà quello il corpo fisico biologico non sappiamo niente della psiche non sappiamo niente dell'anima quando chiedo a un psicologo dice dimmi per favore ma dove si trova la psiche dice nel cervello a la psiche del cervello e come mai non hanno trovato dove si trovano il ego e super ego nel cervello se la psiche secondo poi nel cervello stanno scavando nel cervello non hanno trovato nessuna parte né ego e l'anima dove l'anima non esiste questa non è una cosa scientifica che non può essere infatti la maggior parte della nostra realtà si trova nell'anima l'anima non è altro che l'informazione e l'energia che anima il corpo e anima la psiche la psiche cos'è? non è altro che l'interazione fra l'informazione dell'anima con il cervello pensate c'è interazione come il cellulare interazione fra informazioni e l'apparato si manifesta la psiche quindi quando stiamo parlando della nostra realtà allora nella nostra realtà c'è il potenziale quantico questa informazione l'informazione abbiamo potenziale quantico che sarebbe il mondo spirituale stati quantici cosa sono? angeli e geni abbiamo energia fisica la forza elettromagnetica la forza forte la forza debole e la forza gravitazionale e abbiamo energia biologica l'energia biotermica quella che riscalda il corpo l'energia bioelettronica quella che trasmette i segnali elettrici da una parte all'altra l'energia biochimica quella che produce l'energia e vitalità nelle cellule e l'energia biomeccanica che ci dà la forza fisica e poi abbiamo la materia che è fatta da tre elementi di base fuoco aria acqua e terra quindi quando parliamo la materia la parte materiale chiaramente descriviamo l'energia della materia e così e così capiamo meglio che la nostra realtà la parte della realtà ha due livelli principali uno quello della fisica moderna quella parte meccanicistica e l'altra le realtà di informazione e i sentimenti dell'intuizione della spiritualità che sono soggetti alla legge della sincronicità e su cui si basano le religioni e la filosofia quindi la mia realtà non è solo la realtà fisica la maggior parte della mia realtà si trova in quella non fisica quindi prendiamo l'equazione di Einstein che dice E energia uguale m massa per c quadrata che sarebbe la velocità della luce quadrata e risulta che anima uguale corpo per psiche e se applichiamo il stesso percentuale che c'è l'universo sul nostro organismo esce fuori che la maggior parte della mia realtà si trova nell'anima e nella psiche ma ecco questa equazione anche importante perché ti dice se tu consumi troppa energia sulla psiche rimane poca per il corpo e se consumi troppa energia per il corpo come per esempio ci sono le persone che fanno bodybuilding è importante l'apparenza ci sono delle donne che investono tanto nella bellezza di come appaiono rimane poco per la psiche ci sono scienziati che hanno consumato tanta energia sulla psiche come per esempio Stephen Hawking Stephen Hawking ha consumato la maggior parte della sua energia sulla psiche rimasto niente per il corpo rimasto tutto paralizzato con con la malattia che ha colpito il sistema nervoso è rimasto completamente completamente paralizzato però la sua parte psicologica funzionava benissimo e questa persona sentiva che è in grado di realizzare i suoi progetti nella vita con un senso d'amore felicità e libertà e nonostante il fatto che i medici hanno detto che vai a morire in pochi mesi questa persona è vissuta 50 anni più di quello che è stato previsto con questa malattia portava nuove idee nuove teorie al mondo Stephen Hawking pensate con questa situazione lui si è sposato tre volte tre volte e niente si muoveva e la donna era contenta era felice e risulta che non ci vuole tanto per fare una donna felice e noi che abbiamo tutto ci lamentiamo questo non funziona questo non va bene questo non va bene quindi questa persona dovrebbe essere un esempio a livello proprio mondiale per dire che la parte spirituale è la parte più importante di tutto quello che facciamo nella vita quindi vogliamo definire anima come ho definito prima l'anima è l'energia è l'informazione che anima il corpo e il corpo fisico e la psiche è l'essenza energetica che connette crea una unità indivisibile che unisce un corpo psiche e spirito quindi una persona senza anima non si chiama persona si chiama cadavere e quest'anima divisa in tre parti anima animale quella che dà vita e vitalità al corpo fisico anima umana quella che ci dà coscienza consapevolezza e ci permette di pensare nei nostri pensieri è unica nel regno animale che c'è negli esseri umani l'anima umana è la scintilla divina quella che permette all'uomo di parlare quella parte che parla adesso con voi è l'anima umana l'anima animale non sa parlare l'anima umana si aggiunge a noi nel momento della nascita quando il neonato prende la prima inspirazione entra lo spirito in spirit inspirazione lo spirito guida è un stato quantico come anche l'anima umana e si aggiunge a noi nel momento dell'attribuzione del nome è la fonte della nostra intuizione la fonte del nostro sesto senso quindi lo spirito guida è in realtà è un genio proveniente dal mondo dei geni mentre l'anima umana proveniente del mondo della luce che è un angelo quindi noi abbiamo un animale abbiamo un angelo e abbiamo un genio non necessariamente questo genio un demone perché nella cultura occidentale tutti i geni sono demone non esiste geni che non sono demone mentre la cultura musulmana indiana cinese e altre altre culture ci sono c'è come il mondo angelico che è una gerarchia anche il mondo dei geni gerarchia ci sono geni che credono in dio addirittura l'anima animale quindi è la ragione della vita emozione rappresenta motivazioni primarie della vita l'anima umana è la fonte della consapevolezza dell'identità del sapere trascendentale la molla dell'amore e della compassione che ricerca significato scopo e verità nella vita questa è la parte nostra noi siamo l'anima umana e sempre tutta la vita quello che facciamo vogliamo lasciare spazio all'anima umana alla consapevolezza e superare l'anima animale egoistica che vorrebbe per se stessa quella che ha paura di morire perché veramente muore mentre l'anima umana è eterna non muore ma rincarna da una vita all'altra da un corpo all'altro e lo spirito guida la sede dell'intelligenza intuitiva morale e della religione che ricerca convenzioni profonde e valori quindi quando parliamo di il modello per il futuro il modello del futuro nostro dice che la vera essenza dell'uomo è spirituale pensate tutto ciò che facciamo nella vita è spirituale sei andato a lavorare è spirituale hai imparato nuove cose spirituali hai avuto vasticci con il tuo vicino di casa spirituali hai avuto conflitto traumatico e spirituali tutto è spirituale perché la nostra presenza in questa vita siamo venuti per fare l'aggiornamento cosa vuol dire siamo venuti a prendere nuove cose siamo venuti per innalzare la frequenza energetica della nostra anima umana perché perché vorrebbe andare su strati superiori della luce noi siamo venuti dal purgatorio quel quel posto immaginario fra il paradiso e l'inferno che fra l'altro esiste esiste e non è fisico dici ma il mondo spirituale dov'è dico il mondo spirituale si trova nel posto e nel tempo che non ha significato dove il tempo e il posto non ha significato quindi la nostra mente non riesce nemmeno a percepire dov'è perché nel mondo spirituale spazio e tempo non esiste io come spirito posso stare mille anni ho pensato che è passato un secondo che ancora di più posso dirvi che lo spirito come spirito senza corpo non pensa non c'è pensiero lo spirito esiste ma non vive tante volte dicono la vita dopo la morte non esiste vita dopo la morte esiste esistenza dopo la morte ma non vita perché la vita richiede un corpo fisico biologico per vivere il mondo spirituale non è vivo e non cambia l'arcangelo gabriele da quando è stato creato fino ad oggi è lo stesso gabriele non ha cambiato niente non ha imparato niente la sua funzione sempre è quella la stessa cosa l'arcangelo michele e tutti gli arcangeli tutti spiriti senza corpo non possono fare cambiamento questo motivo perché noi siamo venuti in questa vita quindi chiaramente più sono consapevoli che ho questo dono di avere il corpo fisico in questa vita è un dono sapete quanti spiriti lì dove non c'è tempo spazio stanno aspettando così pieno e non ci sono corpi sufficienti in questo universo per tutti perché i spiriti sono infiniti sono stati di informazione infiniti quindi chiaramente nel sapere questo e sappiamo qual è il vero scopo della nostra esistenza allora capiamo che la vita non è altro che un'opportunità di evoluzione spirituale e l'aggiornamento attraverso l'esplorazione di nuovi orizzonti ci dà delle possibilità anche delle sfidi difficoltà ostacoli conflitti problemi tutti sono stimoli di crescita non sono contra di noi sono per noi la sofferenza psicologica e la malattia fisica non è altro che un segnale di non accettazione di quello che Dio ci ha dato è ignoranza del vero scopo della vita la felicità è il nostro segnale della via retta che stiamo andando giusto nella via giusta quindi noi vogliamo un futuro di benessere allora dice il benessere è un stato d'animo nel quale la persona si sente in grado di realizzare i suoi progetti nella vita con un senso d'amore felicità e libertà questo è il benessere allora dice vuol dire che il nostro futuro sarà tutto bello tutto rosa senza problemi dico no questo non ci sarà mai perché senza conflitti problemi ostacoli la persona non fa cambiamenti è comodo sto bene perché devo cambiare sto bene quando comincio a cercare di cambiare quando non sto bene tranne le persone che sono arrivate alla saggezza e hanno capito che possono anche evolvere senza problemi quindi non è indispensabile soffrire per cambiare puoi cambiare anche senza la sofferenza e questo quello che viene poi detto il proverbio cosa dice dice magari non è un proverbio posso fare una classificazione delle persone in tre categorie abbiamo la prima categoria quelle che si chiamano stupidi lo stupido quello che fa sbagli e non impara e ripete gli stessi sbagli poi c'è l'intelligente che fa sbagli soffre e con la sofferenza fa cambiamenti e non torna più a fare gli stessi sbagli che hanno fatto soffrire il saggio è quello che sa non entrare in situazione che l'intelligente sa come uscire da quelle situazioni quindi il saggio non ha bisogno di soffrire ha capito guarda gli altri impara dagli altri noi siamo fortunati privilegiati perché noi come terapeuti sono seduto lì nel laboratorio vengono tutti i problemi da me e imparo attraverso i loro problemi risparmio per me problemi perché ho superato problemi con loro e ogni giorno altri problemi nuovi ho capito allora non faccio gli sbagli e risulta che sono seduti lì gratis addirittura pagato per fare un aggiornamento accelerato è questo il vantaggio del nostro tipo di lavoro che facciamo dice ma come non soffri da tutte queste emozioni che vengono da te come ti pulisci da queste emozioni negativi dico non ci sono emozioni negativi emozioni negativi non è altro che amore bloccato fai uscire fai affluire questo amore di nuovo l'emozione negativa si trasforma in positiva acqua stagnante non è buona farla fluire diventa dolce acqua stagna energia stagnante bloccata per il conflitto psicologico non è buona fai fai affluire diventa positiva quindi la nostra qualità di vita che dobbiamo mettere l'accento sopra nel nostro futuro innanzitutto di dire l'autorealizzazione perché abbiamo definito benessere come stato di benessere una sensazione che la persona in grado di realizzare suoi progetti nella vita con senso d'amore libertà e felicità quindi autorizzazione è la parte principale di sentirmi realizzato significa che ho capito qual è il mio destino qual è il mio cammino per cosa sono venuto a questa vita e per poter saperlo devi chiedere ma tu chi sei chi sei e con il codice umano che ho fatto e potete vedere il libro codice umano ognuno di noi ha un codice e da questo codice sai quali sono i temperamenti delle persone e dal temperamento sai quali sono le sue esigenze e dalle sue esigenze sai quali sono le sue delusioni e dalle delusioni quali sono i suoi conflitti e dai conflitti sai quali sono le sue malattie risulta che ognuno di noi ha un'informazione ben precisa compreso anche le malattie che può ammalarsi ma non indispensabile cioè non è necessario cosa facciamo noi nel processo della guarigione è un processo educativo che dice chiedere la domanda alla persona per cosa sei venuto alla vita e 99% delle persone non sanno rispondere e quando dico ma tu chi sei ah dice io sono Carlo no dico questo è il tuo nome chi sei tu ah io sono buon marito sono ingegnere dice no mi stai dicendo cosa stai facendo ma tu che stai facendo queste cose chi sei e allora arriva alla conclusione alla fine che lui è un'anima che è venuta in questa vita per fare l'aggiornamento per apprendere crescere evolvere quindi non è le cose che ottengo per me stesso quelle che contano ma le cose che do agli altri con amore quelle che contano quelle che mi fanno il benessere e facciamo distinguere fra il piacere e la felicità piacere è il risultato di quello che ottengo per me mi fa piacere mangiare un buon pasto ho mangiato un buon pasto che bello abbiamo avuto il vino buono nero d'avola e poi abbiamo mangiato cosa il desert normalmente mia moglie mi dice prendi tu il desert io non voglio dico ma io non voglio non prende io assaggio sì perché una volta ho mangiato non dovevo mangiare il desert perché mi sento piena non dovevo quindi il piacere è finito subito capito ancora prima di uscire dal ristorante già il piacere del pasto è finito la stessa cosa hai guadagnato soldi arrivati i soldi contento così tac 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 in poco tempo sono andati già non sai da dove sono scomparsi hai comprato una macchina bellissima è venuto uno invidioso ti ha fatto riga così sulla porta finito il piacere stai facendo sesso bello bello arrivato all'orgasmo finito depresso non parla addirittura russa capito è poverina lei che vuole parlare vengono tutte le storie subito lì in quel momento che lui voleva dormire guardate il caso è finito il piacere di lui è finito il piacere di lei quindi il piacere è una cosa momentanea passeggera mentre ho fatto cosa con amore che mi ha fatto felicità soprattutto quando non parlo a nessuno cosa ha fatto dove viene il rischio di parlare delle cose che faccio che sono buone che mi danno complimenti se mi danno complimenti è diventato piacere perché ho ricevuto qualcosa per me è finito se non ho detto a nessuno rimane felicità c'è un proverbio un arabo che dice che quando la persona arriva alla fine del suo percorso in questa vita con sé prende tutte le cose che ha dato agli altri con amore e niente di quello che ha preso per se stessa tutte le cose che prendo per me compreso figli casa mogli marito soldi posizioni sociali tutti quelli non hanno nessun valore e non le prendo con me come spirito ok quindi chiaramente una volta che ho capito questo ho capito che sono venuto qui per fare tutto per imparare ad amare di più dico io sono qui per servirti dimmi solo cosa hai bisogno ok cosa ti serve perché la mia felicità pensate io posso essere il medico più grande del mondo e non ho nessun paziente che valore ho zero ho bisogno delle persone non perché guadagno da loro soldi ma perché mi rendono felice di realizzare il mio cammino allora il quadro cambia totalmente quindi noi abbiamo bisogno degli altri perché il rapporto personale è la fonte della mia felicità lo stato economico al contrario di quello che tante persone pensano non dà felicità hanno fatto una ricerca e hanno trovato c'è un limite di salario se tu guadagni di meno di quel limite e ti danno un po' di aumento diventi felici ma se tu sopra questo limite possiamo sopporre 800 euro al mese questo limite chiaramente se tu guadagni 600 al mese e ti hanno dato un 100 di più wow la fine del mondo ma se tu guadagni per esempio 3000 euro al mese e ti hanno dato 2000 aumento non ti fa niente nessuna felicità allora dobbiamo fare velga come si dice velga sciopero lo sciopero dobbiamo fare sciopero per ridurre il nostro salario sotto il limite per essere felici ecco i soldi non danno felicità dato di fatto tutti quelli che hanno tanti soldi tornano a cercare la felicità cosa fanno vendono il loro Ferrari e vanno in Tibet per diventare Monaco questo è il Monaco che ha venduto la sua Ferrari crescita intellettuale continua certamente sempre imparare leggere esporre nuove informazioni questa è la base della tua coscienza dell'anima e la libertà di decidere della tua vita quindi lo stato di salute è una risonanza fra lo stato psico spirituale e il corpo fisico abbiamo un'anima abbiamo un corpo e quest'anima e corpo devono essere in stato di risonanza quando ho conflitto psicologico il campo cambia la sua frequenza energica e diventa dissonante con il corpo e comincia a informare il corpo informazioni sbagliate di quello che doveva essere nel fegato le cellule stanno ricevendo informazioni del intestino crasso perché è cambiato paura della critica non ho ricevuto sufficiente amore dai miei genitori cosa succede? appare cellule anomali nel fegato che si chiamano cancro o si chiama metastasi che in realtà è un conflitto psicologico che ha portato alla perdita dell'energia vitale delle cellule e si è manifestata come malattia quindi quando parliamo di omiostasi questa è la parte che dobbiamo mantenere in stato fisso è un equilibrio dinamico dovuto a un stato di risonanza fra l'energia che anima al corpo e la costituzione biologica che permette al sistema di funzionare in pieno ordine con le minime spese energetiche quindi dobbiamo cambiare il paradigma da malattia come un sbaglio biologico che viene curata con la bastiglia con la chirurgia e uccidere l'agente patogeno eradicare la malattia dobbiamo cambiarlo in malattia come dissonanza e mancanza di vitalità che viene elaborata psicologicamente attraverso l'elaborazione psicologica noi completiamo il processo di apprendimento aumentiamo la vitalità e riprestiamo lo stato di omiostasi per quello dico per poter fare questo dobbiamo cambiare paradigma Einstein ha detto non puoi risolvere il problema con la stessa coscienza che hai creato il problema deve cambiare direzione chiaramente ci sono diversi aspetti che dobbiamo cambiare nel futuro dobbiamo unire le quattro forze della fisica unire le teorie della fisica moderna alla religione e agli antichi insegnamenti filosofici non possiamo dire che questa filosofia non conta al contrario dobbiamo prendere cose dei saggi nel passato che hanno che hanno sperimentato che hanno avuto l'esperienza sicuramente dobbiamo unire il potere creativo di Dio con il mondo fisico con la fisica la biologia la cosmologia e dice ma Dio adesso cosa sta facendo nella Bibbia hanno detto che Dio ha creato il mondo in sei giorni poi nel settimo giorno è andato a riposare la mia domanda adesso cosa sta facendo sta ancora riposando o tornato a lavorare cos'è Dio e se vi dico che Dio perché nel Corano è scritto in maniera molto bella scritto Allahu Hak Dio è la legge non è sopra la legge non è che Dio ha creato la legge Dio è la legge stessa che dirige tutto che si trova dappertutto non c'è un nano centimetro senza la presenza divina di Dio quindi questa è la matematica precisa Dio parla tre lingue parla matematica parla bellezza e eleganza e lo vediamo in natura e parla semantica parole quindi le persone ognuno di noi può essere può eccelle o cellare come si dice essere eccellente è un campo di questo no e le persone che usano queste tre lingue di Dio sono quelle che più vicino a Dio e hanno un accesso di informazione da Dio quindi un poeta molto famoso ha questa capacità linguistica semantica di di mettere le parole insieme in maniera che quando le senti ti tocca l'anima questa è una cosa divina come un un scienziato che ha portato una tecnologia moderna supermoderna che aiuta milioni di persone questo super spirituale le persone pensano che la tecnologia separata dalla spiritualità no guardate il paese più il paese è sviluppato tecnologicamente più è evoluto spiritualmente e più è emozionale meno è evoluto più evolviamo spiritualmente diventiamo meno emozionale le emozioni sono legate all'anima animale egoistica e sembrerebbe un po' paradossale ma non lo è dato di fatto con la tecnica del TTRT che ho sviluppato si chiama TTRT Trans Temporal Regression Technique la tecnica della regressione transtemporanea quando la persona muore perché questa tecnica la persona si ricorda cosa era nella vita passata e possiamo farlo questo un attimo adesso con qualcuno di voi se c'è un microfono lo facciamo se non c'è non lo facciamo c'è un microfono che si può prendere guardate sopra forse viene dal cielo c'è microfono allora una persona di voi prende il microfono magari una della prima fila che lo vedo o una che si alza ecco va bene con il signore che ha si alzato benissimo è francesca lì ciao francesca buongiorno ciao come stai in cosa fai cosa fai nella vita il veterinario veterinario la voce non è così chiara comunque cerchiamo di farlo subito guarda vorresti ricordare quello che stava nella vita passata mi piacere perché perché se non ho mai avuto modo di immaginare innanzitutto posso vedere quali sono i punti debole che con la tecnica di ammiccamento possiamo sentire la persona e la distanza non porta niente perché siamo connessi con un campo quantico e nella zona degli occhi che sono dei si chiamano delusioni di progetto ce l'hai hai nel terzo nel terzo chakra nel plesso solare una paura di eventuali danno fisico del passato non adesso e hai nel vaccino si chiama conflitti sessuali tensioni sessuali ma oggi andiamo a vedere quale di questi aspetti che sono importanti derivanti dalla vita passata pensare che sei un bimbo piccolo quanti anni hai 5 6 quanto 5 7 no pensare che sei un bimbo piccolo 8 dove sei in una strada nel mio quartiere dove abitavo e cosa fai sono sotto il sole che progetto scusa un'altra volta sono sotto il sole sulla strada che penso al futuro ok è successo qualcosa no benissimo adesso pensa che sei nella bancia della mamma che colore ti viene dal dentro blu blu e che sensazione hai dentro la bancia della mamma buona sto bene stai bene adesso comincia ad uscire fuori e luci comincia ad apparire mentre stai uscendo della bancia della mamma sta aumentando la luce che colore ha la luce dorata giallo dorata benissimo ecco aumenta 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 è già fuori che sensazione hai fuori è un po' pungente sì il colore diventa più rosso ed è un più un po' più reattiva la cosa un po' più di compasto e ti hanno messo sul petto della mamma e succhi e latte che gusto ha il latte della mamma di mandorla dolce dolce benissimo adesso torniamo ancora indietro e ti troverai un altro posto un altro tempo non questa vita potrebbe apparire un deserto un mare una spiaggia un lago un campo una giungla un un villaggio una città sì città e tu chi sei lì uomo bimbo bimba ragazzo ragazza uomo donna uomo quante anni hai ma più o meno questa età qui 15 no 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 più o meno una cinquantina d'anni ah come adesso cosa sei vestito come sei vestito sono vestito tipo ottocento periodo dell'ottocento quindi un vestito bastante elegante e sei da solo lì vero no con chi sei c'è una donna ma non la vedo una donna non la vedi so che c'è però adesso non riesco però bisogna rispettare bene e che sensazione hai in questa situazione con questa donna che forse non ci si riesce a comprendere lei non riesce a comprenderti sì sì e quindi sei un po' triste ma interdetto sì sì non so perché non sai perché in realtà perché ha fatto qualcosa che non ci vuole tanta immaginazione cosa ha fatto con te no è andato con altro diciamo e ti sei sentito male ok e la cosa bella che in questa vita anche sta successo con la stessa cosa no e e ti sei sentito anche male e lì come hai perso la passione della vita vero questo e allora arriviamo al momento che hai lasciato il corpo e dimmi come hai fatto per lasciare il corpo in quale quanti anni avevi quando l'ho lasciato in quell'occasione lì sì quando la mia anima lascia il corpo non mi hai lasciato non mi sto capire la domanda sì dimmi dimmi è è arrivato il momento che deve lasciare il tuo corpo come è successo questo lasciare il tuo corpo hai fatto qualcosa a te stesso sei morto in maniera normale naturale o da malattia o da tristezza o da delusione cosa è successo non riesco a vederlo non mi viene con niente bene immaginarlo immagina che è successo a questo uomo qualcosa è morto come è morto questo uomo ucciso ucciso chi l'ha ucciso non conosce qualcuno strano sì e l'hai visto in faccia no e dal dietro è venuto ma forse dal davanti era buio impossibile e come mai non l'hai visto in faccia perché era buio era buio ho visto ho capito ma hai avuto la sensazione che uno giovane è forte sì sì ecco ti hanno colpito stai perdendo la tua sensazione tutto diventa buio 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 però nella parte destra appare un fascio di luce che colore ha la luce e senti questa luce ti tira su con una leggerezza che sensazione ti dà di pace di gioco pace pace è la parte più bella della tua vita questa sensazione vero sì ecco ragazzi questo si chiama morte e la morte è la parte più bella della vita e stai fluttuando dentro un tunnel di luce e nell'esternità del tunnel lì c'è una luce forte una stanza illuminata e stai avvicinando questa stanza ecco sei di fronte alle stanza sei dentro e davanti a te c'è un una commissione che stanno aspettando quanti sono nella commissione a me è capitato con nello piccolo questa cosa qui cima tunnel di luce ho visto due figure di luce erano due che mi aspettavano bene allora se hai visto questa luce sei diventato sei avvicinato alla stanza illuminata e in questa stanza c'è una commissione quanti sono nella commissione me ne immagino due due come sono vestiti di luce di luce che colore è la luce bellissima bianca luminosissima bene uno di loro si alza e viene a accoglierti ti guarda negli occhi e tu lo guardi negli occhi che colore ha i suoi occhi verde e ti ha dato un messaggio questo messaggio ti ha dato o verbale o scritto come te l'ha dato scritto è scritto su cosa ha scritto nella luce e cosa c'è scritto cosa cosa ha scritto che l'amore è tutto l'amore è tutto hai una idea chiara di quello che dovreste fare in questa vita con questo amore darlo agli altri quindi hai idea chiara cosa fare come fare nella vita quotidiana sì benissimo e che sensazione ti dà quando fai questa cosa con amore ah una grande espansione un grande esorio bravissimo questa è la verità perché io definisco felicità come uno stato di espansione di coscienza e quello che stai dicendo è una felicità e dare un gratitudine a questo che ti ha dato il messaggio addirittura puoi abbracciarlo ringraziarlo è arrivato il momento che deve tornare alla mancia della mamma sei nella mancia della mamma che colore ti viene sempre l'azzurio e che sensazione hai dentro di essere protetto di essere accolto benissimo è arrivato il momento che deve uscire stai uscendo e luce sta aumentando aumenta aumenta e sei fuori come ti senti fuori bene bene ti hanno messo solo il petto della mamma e succhi e latte che gusto ha il latte sembra acqua adesso sembra ancora più inquido più ma non ha un sapore trasparente trasparenti sai che possiamo aggiungere qualche gusto di vaniglia a questo latte ecco diventato più diciamo cremoso con un gusto di vaniglia succhia un po' vede come il gusto meglio adesso vero bravissimo grazie tantissimo per questa esperienza perché in realtà quello che hai sperimentato sperimentato la vita della vita passata e tante persone pensano che hai inventato compreso te che hai inventato delle informazioni vero? sì abbraccia abbraccia pendoloni non lo so niente forse non lo so allora noi non possiamo mai inventare qualcosa che non abbiamo capito? se non ho l'idea nel mio sistema non posso inventare un'idea e se hai scelto questa idea potevi scegliere milioni altre idee e non sai come mai proprio questa e non un'altra e risulta che in realtà questa si chiama canalizzare l'informazione dell'anima umana al tuo cervello per ricordare quello che è successo nella vita passata e ti rinforza la tua coscienza di essere consapevole che la cosa più importante è agire con amore e essere attento a sentire sempre la felicità come uno stato di espansione di coscienza ti ringrazio di cuore e ti auguro di rimanere sempre felici grazie grazie a te grazie Francesca Francesca scusa Francesca sì e quanto tempo c'è ancora abbiamo ancora 5 minuti dopo 7 e poi arriva Capitanata di Roma sorpresa ah benissimo in questi 5 minuti possiamo fare tante cose quindi abbiamo detto delle leggi della fisica del futuro deve essere in grado di unire le leggi della fisica alle forze vitali come intelligenza coscienza anime e spiriti e unire diverse aspetti del corpo umano mente corpo e psiche corpo psiche anima in realtà perché alla fine facciamo tutto questo lavoro di fisica per poter capire meglio la nostra natura e le persone che sono interessate potete entrare in questo giornale si chiama Journal of High Energy Physics Gravitation Cosmology e potete vedere tutti gli articoli che ho scritto in fisica e portando nuove teorie di fisica su diverse parti dell'elettrone del fotone di diverse costanti la forza dell'inerzia e l'ultimo che ho fatto è l'articolo dove ho cambiato la tabella periodica degli elementi di Mendelew con una nuova tabella che risponde e risolve tutti i problemi che esistono nella tabella attuale così le persone che sono interessate possono effettivamente andare e vedere questo chiaramente non ci soffermiamo solamente sulla salute del nostro personale ma andiamo a vedere che anche la salute della della nostra pianeta è molto importante e se tu ti impegni a mantenere il tuo intorno verde allora il nostro pianeta diventa tutto verde ognuno di noi fa questo passo tutto diventa verde poi i progressi tecnologici sono molto importanti l'intelligenza artificiale ho qui da dire l'intelligenza artificiale è molto importante perché la nostra conoscenza sta aumentando in maniera esponenziale fino al punto che il nostro cervello non è sufficiente per elaborare le informazioni con la velocità necessaria quindi abbiamo bisogno di una intelligenza aggiuntiva dal fuori per poter andare avanti nel ritmo della crescita e dell'evoluzione quindi quindi non avere paura in realtà di andare avanti e di usare l'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale è solamente uno strumento uno strumento non è da avere paura di usare questo strumento non avere paura che l'intelligenza poi riesce a controllare gli uomini non c'è questo pericolo perché il pericolo esiste già esistito sempre perché è un gioco fra Satana e Dio e il positivo e il negativo che esiste dentro di noi è sempre esistito dipende da te in quale parte vuoi scegliere andare se hai scelto la parte dell'amore ti sei connesso con la tua natura la tua essenza dell'amore la tua essenza della luce ti sente felice se hai scelto di andare con le forze di Satana allora chiaramente hai creato una dissonanza perché la nostra natura di luce non è adeguata ad essere nella dimensione né dell'oscurità né del fuoco tornando alla medicina chiaramente il tema molto largo non possiamo coprire tutto comunque la medicina del futuro quello che noi vogliamo vogliamo una medicina che mette l'accento sull'aspetto della prevenzione attraverso l'aggiungimento del benessere fisico mentale spirituale e sociale e non solo assenza di malattia questa è la medicina integrativa unificante questa è la malattia e sappiamo che per ogni conflitto c'è indirizzo nel corpo dalla malattia possiamo sapere quale è il conflitto non risolto questo è un articolo che potete leggere il rapporto fra conflitti psicologici e malattie fisiche è basato su sette aspetti della nostra vita sette chakra sette ghiandole endocrine dodici meridiani ogni meridiano ha un aspetto psicologico ben specifico così possiamo sapere dalla zona specifica che mi fa male che dove c'è malattia che c'è disturbo già mi dice qual è il problema poi abbiamo un altro modello che dice come mai se abbiamo un conflitto che ha colpito lo stomaco come per esempio un conflitto inaspettato non digerito come mai ci sono quattro diversi tipi di malattie può essere gastriti può essere ulcera può essere eccesso di muco può essere cancro allora quattro fasi della vita vengono a rispondere a questo a questa richiesta e risulta che ogni ogni fase di questo quattro della vita legata a una fase dello stress che sono minaccia organizzazione attacco funga e risoluzione o shock e ognuno di questi ha un grado di paura e secondo come ho vissuto il conflitto quale grado di paura va a bloccare una di queste quattro fasi della vita eccitazione espansione contrazione rilassamento e secondo la fase bloccata esce fuori per esempio se è bloccata una fase di eccitazione abbiamo infiammazioni aritmie sindrome del colon irritabile insonnia convulsione nella espansione possiamo aumentare possiamo avere aumento del volume degli organi come hepatomegalia come splenomegalia come cardiomegalia o cisti cisti ovariche cisti dei reni nella contrazione si manifesta come ulcere come malattia di Crohn o contrazione del muscolo liscio come asma ipertensione arteriosa mioma otterina nel rilassamento c'è una flaccidità astenia depressione ipofunzione nelle ghiandole endocrine cancro e una mancanza di energia o ernie per flaccidità dei muscoli e poi c'è un altro ancora meccanismo che dice come mai se abbiamo il conflitto ha portato per esempio a un cancro nello stomaco come mai ci sono diversi tipi di cancro nello stomaco può essere adenocarcinoma può essere mio mio sarcoma che sarebbe il cancro del muscolo liscio può essere linfoma da dove vengono queste differenze allora andiamo a scoprire che in realtà ognuno di noi ecco percepisce il conflitto in maniera diversa se ho percepito il conflitto come un conflitto di sopravvivenza va a colpire il tessuto derivato dall'endoderma come per esempio nel caso dello stomaco e la mucosa adenocarcinoma è un cancro della mucosa del stomaco o se è mancanza di appoggio allora va a colpire il tessuto che dà l'appoggio che si chiama per esempio muscolo o mesenchima o scheletro quindi questo si chiama nel caso dello stomaco lo chiamiamo l'io mio sarcoma che va a colpire il tessuto derivato dal mesoderma e mentre se mancasse di contatto va a colpire il tessuto derivato dall'ectoderma e qui ci sono dei segnali segni che sono legati ai temperamenti ai temperamenti delle persone e il temperamento possiamo determinarlo dalla faccia guardando nella faccia della persona sappiamo il codice e ci sono 64 diversi codici e ognuno di noi uno di questi 64 codici ha un temperamento ben preciso ha delle aspettative ha delle delusioni ha delle malattie ha delle modalità di sistema difensivo e chiaramente va a determinare specificamente la malattia specifica per quella persona pensate che è tutto matematico preciso anche a livello psicologico spirituale e anche a livello di saluti quindi posso riassumere dicendo che siamo venuti alla vita per fare l'aggiornamento le difficoltà ostacoli problemi sono stimoli di crescita e di evoluzione la malattia e la sofferenza psicologica sono segnali di non accettazione che ha portato alla manifestazione del conflitto e la felicità è il nostro segnale che stiamo andando nella direzione giusta quindi amore è la via felicità è il nostro segno e luce è il nostro scopo dalla luce siamo venuti e alla luce torneremo grazie a tutti e buona giornata grazie ecco Rino arriva Rino Francesca ciao Nader ciao Rino come stai? bene Nader allora ho suggerito di mettere adesso il nostro prano alleluia benissimo si spegniamo le luci abbassiamo le luci e se ci metti di dire una cosa Nader immaginiamo tutti insieme la pace immaginare e creare realtà siete d'accordo? sì d'accordissimo sono d'accordo ok sono d'accordo Grazie a tutti. 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 Grazie, grazie Madre, è stato bellissimo. Grazie, buona giornata, buona continuazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un abbraccio, un abbraccio a tutte le persone che ti senti. Abbiamo cantato insieme a Chiesa di Luia e abbiamo immaginato una grande pace. Grazie, grazie Rino. Rino, vi amo tutti e ci vediamo la prossima volta in Cianna. Ciao, grande.